Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio loquendistico di GTA 5. Spero che oggi quel bastardo di Simeon mi paga i soldi dei lavoretti precedenti o stavolta mi incazzo sul serio. Per prima cosa vado da questo concessionario che non se lo caga nessuno. Tra l'altro hanno messo pure un pisello gonfiabile volante, ma dico io, addirittura un pisello volante gonfiabile, c'è poi vedete com'è messa male sta città. È arrivato Miss Campania di sta minchia, vieni qui che ti devo parlare. Dove sono i miei fottuti soldi? Ma è mai possibile che pensi sempre ai soldi, ricordati che i soldi non sono tutto nella vita, e ora che ti ho messo a tacere quella fogna che è al posto della bocca, devi recuperarmi quell'auto che ha comprato quel brutto Snorlax del Cazius, non ha pagato l'assicurazione quindi, valla a recuperare e magari ti pago almeno 20 euro tondi tondi. Fammene andare va, che se rimango in questo concessionario di merda talmente di quei cazzotti in facca, che gli darei a sto taccagno di merda che gli faccio diventare completamente calvo con i pochi capelli che gli sono rimasti. Andiamo a recuperare quello schifo di auto che sembra un bidone della monnezza che un'auto. Dai che se niente va storto stasera vado allo strip club e magari rimorchio una bonazza, così mi sfogo un po', facendomi una bella scopata alla facciazza del Mastro Lindo e i suoi lavoretti di merda. Ci mancava solo questa, recuperare l'auto di quello che sembra più un Majin Buu, speriamo che non vada niente distorto. A parte che spero che non scopra che non gli abbiamo portato la moto, altrimenti a chi lo sente a quel fottuto Mastro Lindo dei miei fottuti stivali. A parte che questa è una figata assurda, ho il potere di rallentare il tempo, vis di Dragon Ball Super mi deve soltanto fare un bel chinotto. A parte questa abilità, lo usa soltanto il videogiocatore che è una mezza sega a giocare. Caspita, però devo ammettere che guidare al rallentatore mi è davvero utile anche nelle gare, ci dovrò fare un pensierino al riguardo. Che cazzo vuoi Mastro Lindo? Traditore schifoso eppure mi fidavo di te, altro che impiegato del mese, ti dovrei licenziare ora che ci penso, dov'è la moto che mi hai promesso? Beh se mi porti l'auto di quello Snorlax al minimo non ti licenzio. Ti foto analmente, per non avermi portato la moto, nessuno prende per il culo il grande Simeone, nessuno. Ehi coglionazzo, guarda che la moto te l'avremo portata comunque, ma purtroppo c'è stato un equivoco. Ma quale equivoco di sta minchia, mi hai tradito brutto stronzo, e ora muoviti a portare l'auto di quello Snorlax, sto già preparando il Viadra per violentarti analmente. In bocca al lupo, e in culo alla balena. Stronzo, devo assolutamente trovarmi un lavoro serio, altrimenti questa storia non può andare avanti. Bene, ora dove entro, mi sa che dovrei entrare dal retro. Guardate come fotto alla grande il giardiniere. Ma porca troia, com'è faticoso fare il giardiniere? Il bello è che mi pisciano pure in mano con tutti i soldi che mi danno. Cosa? Perfetto, il giardiniere è stato messo fuori gioco. Ora devo trovare il modo di entrare, caspita che villa di lusso, è io che vivo in una topaia chiamata casa insieme a quella zoccola, ciuccia cappella di mia zia. E porca troia è chiuso. Vediamo se quello Snorlax di merda ha lasciato la finestra aperta, così posso intrufolarmi da lì, e riportargli l'auto a quel tirchione del Mastro Lindo. Giuro che se non mi dà ancora un euro a furia di pestarlo a sangue la sua testa gli e la faccio completamente pelata. Ma è mai possibile che tutta la casa è chiusa a chiave, ma sto Snorlax per caso è uno che si fa le seghe a tradimento o cosa? Proviamo a salire da quella macchina e scavalcare. Magari è lì che trovo la finestra aperta, a quanto pare so fare anche parkour. Ezio auditore di Assassin's Creed 2 mi deve fare due chinotti. Come ti permetti di paragonarmi a quella troietta di Sasha Gray? Mamma, quello Snorlax mi ha paragonata a Sasha Gray. Ma porca troia, certo che la famiglia in questa villa sta proprio esaurita, fammi muovere furtivamente in stile serpentone solido va? È tempo di mettere in pratica le azioni stealth, mi ha fatto bene giocare a Metal Gear Solid stamattina, e ora adesso mi sento un infiltratore nato. Dai, auto recuperata, certo che sono un'auto per lo stealth, ma adesso portiamo l'auto a quel taccagno del Mastro Lindo. Mo' giuro che se non mi da un centesimo, talmente di tanti cazzotti in facca che gli do che lo faccio diventare rosso. Ehi Mastro Lindo, ti sto per riportare l'auto. Bene dai, almeno ti stai rendendo utile, ho già preparato il viandra per violentarti analmente, appena passi ti sfondo il tuo ano nero che hai. Ma sfonda che è la buchina Munt. Pensavi di passare inosservato rubando l'auto di mio figlio. Ho questa pistola cinese, e non ho paura di usarlo. Guarda che io non centro niente, eseguo solo gli ordini di quel Mastro Lindo della minchia, ti prechi, non uccidermi, oh zia troia, ma cazzo sto di? Mo' me sto in panica, panico 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 paura... Ehi ma per caso prendi ordini da quel Mastro Lindo del cactus? Ehm, sì, 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 ma purtroppo la paga non è buona, e mi piscia in mano su ogni lavoretto che faccio. Quel magimbu di merda, si è fatto fregare persino da quel Mastro Lindo. Ma non è possibile che ho figli deficienti, regola numero uno. Prima di fare un figlio, indossa un preservativo. Regola numero due. Se non schiacci quell'acceleratore di merda, premo sto grilletto di merda, così vedo un po' se funziona questa pistola fatta di nicchia. Muoviti e schiaccia quell'acceleratore se vuoi rivedere i tuoi genitori, a parte se ce li hai ancora, muoviti che non abbiamo tutto il giorno brutto brasiliano del cappero. Forza, che cosa aspetti? Spingi quell'acceleratore di merda e se sfondi la vetrina di quel concessionario che vale meno di zero ti do una bella mazzetta di dollare. Minchia, ma fai sul serio? Credi che io stia scherzando? Muoviti e schiaccia quell'acceleratore prima che perdo la pazienza. E va bene va bene, mi hai convinto, che vita di merda. Muoviti cazzo, oppure con questa pistola ti faccio entrare il proiettile nel cervello fino a sbudellarlo con una sensazione di sbigottimento puro, gli insegnamenti di Dragon Ball Z insomma. Che cazzo hai fatto brutto cesso sudamericano? Mo ti faccio pagare il concessionario fino all'ultimo centesimo, cul cazzo. Ora ora, che bello, finalmente ho qualcun altro da usare come sacco da box. Mi sono stufato di picchiare a quel majinbu di merda. Vieni qui che mo ti scasso di mazzate mister risparmio della minchia. Ne vuoi ancora? Magari ti aggiusto quella tua faccia di cazzo che hai, brutto pelatone del cazzo. Osi truffare mio figlio che se lo fa mettere in culo da tutto lo stato, ma tu sei uno di quei pezzi di merda più grossi. Amerocchi Balboa mi fa una sega, sono un boxer nato. Ora ti picchio con la porta della macchina e te la sbatto su quella faccia da mastro lindo dei poveracci. Ne vuoi ancora? Ti è, beccati questo, e non farei complimenti. Ops, forse quella porta della macchina è un po' arrugginita. Provo a sbattertela in faccia con un po' più di violenza. Ecco fatto. Piaciuto stronzo? Ti prego basta violenza, ti regalo tutti i monenzaio di macchine che ho io, ma basta che te ne vai e non mi butti più le mani addosso. Non me ne faccio niente di quei rottami della minchia, e ora che ti ho chiuso quel cesso di bocca ti appendrei al chiodo e ti uso come sacco da box per sfogarmi ogni volta che mi vengo un attacco di rabbia. Ora me ne vado, e non farti vedere più con quella faccia di cazzo. E rispetta il Dio Onnipotente Loquendo Italia. Porca puttana se mi sento al settimo cielo, è una grande soddisfazione picchiare qualcun altro al posto di quel magimbu di merda, ora me ne torno a casa a farmi un gran bel segone con un attivo e 40 pollici. Bene ragazzi e anche questo episodio Loquendo di GTA 5 volge al termine, se vi è stato di vostro gradimento iscrivetevi e lasciate un bel pollicione, ci becchiamo alla prossima. Ciao!